Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Restano gravissime le condizioni della turista padovana di 30 anni, colpita ieri pomeriggio alla testa da una statuetta caduta da un balcone nel centro di Napoli. E' quanto riferiscono le fonti dell'ospedale del mare, dove la donna è stata trasferita dopo essere stata stabilizzata al vecchio Pelligrini. La turista si trovava in via Sant'Anna di Palazzo, ai quartieri spagnoli, quando le è caduta sul capo una statuetta in unice di oltre tre chili. Un ultimo giro prima del ritorno a casa, previsto ieri sera con un volo dall'aeroporto di Capodichino, si è trasformato in tragedia. Oggi sono stati effettuati una serie di esami diagnostici per verificare la situazione dell'attività cerebrale. Su quanto accaduto indaga la Polizia Municipale e la Polizia di Stato di Napoli. 191 morti dall'inizio dell'anno, 66 in Campania, 24 nella sola città di Napoli. Numeri impietosi che fotografano una situazione emergenziale nazionale riferita al mondo del lavoro. A livello nazionale, infatti, l'incidenza è passata dai 14,7 morti per milioni di occupati nel 2023 a 15,4 nel 2024, con ben sei regioni in zona russa. Su come difendere i lavoratori e arginare questa mattanza se ne è discusso all'ex base nato di Napoli, nell'ambito del convegno La sicurezza sul lavoro e responsabilità di tutti, organizzato da PSB Consulting, amministrata da Pasquale Natale. Noi chiediamo maggiore attenzione, magari un osservatorio per quanto riguarda la sicurezza a livello regionale, ma soprattutto di trasferire il sistema sicurezza nelle scuole, cioè educare i giovani alla sicurezza. All'incontro ha preso parte anche Antonio Marciano, presidente della Fondazione Campania Welfare, che sulla cosiddetta patente appunti per la sicurezza si è così espresso. Dobbiamo lavorare come sempre su più fronti, come diciamo nel titolo dell'iniziativa, istituzioni, organi di controllo, imprese, sindacali, per affermare un principio, che è ancora una sfida tutta da vincere, che l'investimento in prevenzione e in sicurezza è un investimento per l'impresa e per il futuro e il benessere del paese, non è un costo a danno delle imprese. Presenti anche le sigle sindacali e l'Inail, che da anni si battono per la difesa del mondo del lavoro. Abbiamo sospeso dall'inizio dell'anno al 31 di agosto a Napoli circa 1200 attività imprenditoriali, sospesi sia per la presenza di lavoro nero e sia per la presenza di violazioni delle disposizioni dell'allegato 1 dell'81-2008, quindi le violazioni più gravi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La fondazione Made in Cloister ha presentato l'opera Site Specific La Casa di Wendy dell'artista Gabriella Siciliano, in mostra presso lo spazio Laboratorio, a partire da sabato scorso. Uno straordinario progetto realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE nell'ambito del programma Per Chi Crea. A differenza di un approccio tradizionale di tipo white cube, l'artista ha voluto vivere e analizzare i capitelli rinascimentali, le catene industriali e le porte murate che testimoniano una storia complessa di laboratorio. Il risultato è un'opera che si pone in simbiosi con lo spazio. È una mostra che parla di solitudine, è una creatura che nasce dall'unione di tutti quegli stati d'animo che mettiamo da parte e che non accettiamo, di tutti quei sentimenti che non esprimiamo. Questa condizione porta appunto a un senso di abbandono, infatti questa creatura non riesce a trovare il suo posto nel mondo. È un mostro che non vive più sotto il letto ma ci dorme sopra, per cui si rivela a noi ma allo stesso tempo noi non sappiamo come trattarlo, non sappiamo cosa farcene. Una creatura che dovrebbe eseguire un compito di distruttore, dovrebbe far paura, in realtà viene invaso nella sua intimità per cui si crea questo contrasto tra la figura e il ruolo che dovrebbe interpretare e quello che invece sta facendo perché fondamentalmente è steso in un letto, quindi in una posizione di riposo all'interno della sua stanza. La casa di Wendy in particolare si inserisce in questa esplorazione invitando il pubblico a confrontarsi con la propria condizione emotiva e Leonora Di Blasio della fondazione Made in Cluster ai nostri microfoni afferma Il collegamento è chiaramente quello del site specific, quindi di installazioni ambientali tutto quello che facciamo nei nostri spazi sono tutte opere che sono nate e cresciute all'interno degli spazi nell'ottica di valorizzarne il recupero. Il Napoli si riscopre grande, scaccia i fantasmi dello scorso anno e torna prepotentemente primo in campionato complice il paleggio serare dell'Inter a Monza. Gli uomini di Conte corrono, combattono, si sporcano le mani ma soprattutto hanno fatto quadrato riscoprendosi squadra e giocando l'uno per l'altro. Ieri quattro gol in trasferta al Cagliari, terza vittoria di file e soprattutto zero gol subiti dati importanti che vanno analizzati anche con una rosa che nonostante negli uomini sia la stessa dell'anno scorso oggi può contare su maggior qualità nei ricambi ma soprattutto su un uomo in più che in attacco fa la differenza, Romelu Lukaku. Il belga che come ha sottolineato l'allenatore non è ancora al top della condizione ha avuto un impatto devastante sull'ambiente azzurro con due golle e due assi sin appena 75 minuti giocati. Sabato la gara contro la Juventus dirà realmente se questo Napoli può dire la sua in campionato e soprattutto se merita il primato. Sembra proprio di sì che i fantasmi dell'anno scorso non ci siano ma tutto merito secondo me di Conte. Il migliore acquisto di De Laurentiis Conte. C'è il big match con la Juve, faremo di tutto, Antonio Conte va da ex però anche lì ha fatto bene, magari speriamo che ci porta soddisfazione a noi e un po' di rammarico a loro. Abbiamo giocato bene nel secondo tempo dopo il 65esimo abbiamo giocato veramente bene quando Lukaku ha segnato il secondo goal c'è ancora da migliorare ma secondo me stiamo andando nel giro giusto. Lukaku secondo me fa la differenza in quanto è uno che gioca per la squadra e non per se stesso come Osimena. Credo che il Napoli debba acquisire ancora un po' di equilibrio dopodiché vedremo una squadra perfetta quasi. I fantasmi non sono spariti, sicuramente ci sta ancora da lavorare e presto per dare subito dei giudizi. Aspettiamo un po' prima di parlare. Abbato c'è la Juventus con fiducia. Vabbè come al solito non diciamo niente, noi ci aspettiamo sempre il meglio. In silenzio, con calma, aspettiamo questo momento. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.